Ciao, oggi vi parlo di un piazzamento conigli, tanto carino da vedere quanto malvagio nel cercare di farvi piazzare correttamente le carte. Vi parlo di questo CONI, gioco di Gianpaolo Razzino per 1 o 4 giocatori, una durata di circa 30 minuti a partita e dedito da Little Rocket Games. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. La prima è il rifornimento. Può scartare un qualsiasi numero di carte dalla propria mano e ripristinare la propria mano fino a 4 carte. Eventualmente potrà anche decidere di riservare carte e metterle nella propria riserva fino a un massimo di 2. Ovviamente si ripristina al centro del tavolo una fila da 3. Il secondo tipo di mossa invece è giocare carte coniglio. Innanzitutto posso vendere carte coniglio dal mio display. Ad esempio posso vendere questa carta e recuperare quanto scritto nel riquadro verde, una carta e una risorsa mia scelta. Decido di prendere ad esempio una carta qua dal display che ripristino e una risorsa scelta che potrebbe essere questa. Ora posso procedere a giocare fino a 2 carte coniglio. Devo pagarne i costi scritti qua e rispettare le condizioni di adiacenza. Questo coniglio femmina non vuole i conigli grigi, io vorrei metterli in quest'angolo. I conigli già presenti mi dicono questo vuole massimo un maschio e ce l'ha già per fortuna questa è femmina e almeno un arancione, condizione già soddisfatta. Quest'altro vuole almeno uno bianco o un arancione. Ha già l'arancione quindi ci siamo, quindi la posizione è possibile. Pago la mia carotina e il coniglio è piazzato al centro del tavolo. Voglio poi giocare questa seconda carta. Questa mi chiede di avere adiacente almeno uno grigio oppure uno marrone. Piazzandolo qua quest'altro mi chiede di avere almeno un arancione, ci siamo già e quindi posso pagare le due risorse e piazzarlo qua. Questo coniglio ha nel riquadro rosso però un immediatamente che mi dice di ottenere una carta e una risorsa di questo tipo. Prendo la risorsa e come carta ad esempio decido di prendere questa e aggiungerla alla mano. Il terzo tipo di mossa è lo sviluppo. Controllo nei riquadri rossi ci si è scritto durante lo sviluppo e ne applico i risultati. Questo dice durante lo sviluppo posso ottenere un grano oppure un pellet. Decido di prendere un pellet e metterlo nella riserva. Quest'altro dice che durante lo sviluppo ottengo due risorse uguali. In questo caso decido di prendere due carote. Dopo aver scelto appunto una di queste tre mosse tocca al giocatore successivo. Durante la partita sarà sempre possibile giocare a faccia in giù al costo di due risorse una carta conigliera ovvero sia una carta girata a faccia in giù. Questa avrà tutte le caratteristiche corrette di adiacenza ma ovviamente non ci darà punti a fine partita. Si continua a giocare così fino a quando un giocatore non completa il suo schema 3x3. Ora tutti gli altri giocatori completeranno il proprio turno e si passa al conteggio dei punti. Innanzitutto si contano i punti vittoria riportati qua in alto a destra sulle carte coniglio. Si sommano eventuali punti vittoria dati dai coupon rossi. Questo recita ottiene un punto vittoria per ogni coniglio arancione adiacente quindi sarebbero 1, 2, 3 punti vittoria addizionali. Si controllano i loghi dei negozi che sono questi riportati in basso a destra. Per 3 loghi come in questo caso si collezionano 2 punti vittoria. Ogni 3 risorse rimaste 1 punto e meno 2 punti per ciascuna carta riservata non giocata. Chiaramente si fa il totale di tutto ciò e chi ha il totale più alto è il vincitore. Come avete visto il regolamento non è particolarmente complesso si tratta di recuperare carte e risorse per poter giocare le carte nella vostra griglia 3x3 ma chiaramente il cuore del gioco è questo vincolo di piazzamento davvero ostico. Ogni coniglio infatti avrà delle esigenze particolari alcuni vorranno essere vicini a un tipo di coniglio altri non vorranno una tipologia di coniglio e quindi è molto facile che conigli della stessa tipologia si chiamino fra loro e poi che troviate solamente carte che invece quella tipologia di coniglio non lo vogliono. Quindi dovete cercare in qualche modo di cercare di adattarvi a quello che uscirà e in questo caso entrano in scena le vendite e le carte conigliera. La vendita soprattutto nelle prime partite vi potrebbe sembrare un qualcosa che non serve tanto che vi manda indietro di giocate perché avete speso azioni per recuperare le carte coniglio recuperare le vostre risorse e poi avete speso tutto quanto per giocare la vostra carta ma intanto vendere quella carta coniglio vi dà comunque un ritorno che siano carte risorse un mix di queste cose insomma non vi lascia a bocca asciutta ma soprattutto potrebbe liberarvi uno spazio vitale importantissimo potreste avere in mano magari tre carte coniglio che di fatto non si stanno piazzando e magari al centro del tavolo ci sono altre carte che non si possono piazzare nel vostro schema magari addirittura potrebbe non esistere una carta coniglio corretta da piazzare nel vostro schema ma facendo attenzione magari vendendo una o due carte nella maniera corretta potreste magari sbloccare davvero una sequenza di altre tre carte che potranno piazzarsi e magari chiudervi la partita. E analogamente cito appunto la conigliera ovvero sia girare la carta e piazzarla in questo modo. E' vero che vale zero punti ma non sapete quanta aria può darvi se siete davvero un po' incastrati. Se avete piazzato conigli che non vogliono l'arancione ma neanche il nero non ci sono maschi eccetera e davvero avete tante carte in mano e non sapete che cosa fare beh piazzate una conigliera saranno zero punti ma se vi sblocca altre due o tre carte dalla mano che hanno a loro volta magari tre punti vittoria ciascuna e che so una dei coupon qua sotto che vi danno ulteriori punti vittoria a fine partita beh l'affare è presto fatto. Diciamo quindi che è un gioco che ha due facce potete giocarlo tranquillamente in maniera spensierata perché non c'è interazione con gli altri giocatori quindi potrete prepararvi le vostre cose senza grossi problemi ma potete anche trovare una maniera molto più avanzata di giocare cercando appunto di ponderare ogni mossa ogni scelta cercando la carta giusta insomma se avete voglia di pensare potete farlo ma se anche volete godervi solamente la partita in amicizia anche questo c'è. Direi quindi che se volete provare questo feeling da rompicapo allora Connie può essere sicuramente valido per una partita di prova. Mi invito quindi a testarlo e vi saluto con un ciao e alla prossima. Sicuramente se avete visto i miei video precedenti questo Connie ricorda sicuramente Hans o se avete appunto giocato a Hans questa griglia 3x3 con vincoli di piazzamento. Là c'erano solo galline qua ci sono conigli. Questo Connie in realtà non è che migliora Hans lo espandi in un'altra direzione lo rende un po' più game. Hans è molto più astratto vincoli di piazzamento già predefiniti e tutte le galline si comportano in un certo modo. Qua invece vincoli sempre diversi quindi un po' più di cattiveri nel piazzare i vostri coniglietti ma hanno inserito la vendita in modo tale da poter anche piazzare solo per rivendere. Avete questi effetti che si attivano quindi la possibilità di utilizzare carte solamente per il loro effetto di attivazione quindi insomma se volete un'esperienza di gioco più da gioco da tavolo ora forse vi direi Connie. Io personalmente preferisco un po' più Hans perché sono un po' più portato verso gli astratti ma sicuramente sono due giochi che non si sovrappongono nella vostra libreria. Guardate qua in descrizione per tutti i link che potrebbero interessarvi e sostenere la recensione di minuti e vi dico ciao ne!